Ciao ragazzi Allora sono qui con Leo Buongiorno a tutti Allora abbiamo fatto la registrazione O meglio ha fatto la registrazione Niente adesso andiamo in hotel Siamo arrivati tutti e due per l'E3 Allora qui appunto iniziava Abbiamo fatto anche amicizia Sì dai E via Gareggia in NBFI come Manphysic Ci sono mille toll, extra toll, super toll Non abbiamo ancora capito qual è Ho scoperto di aver guadagnato un centimetro Pensavo di essere un 82 invece E va bene Sono un 83 quindi peso ancora meno Il discorso HP risulta ancora più sballato Vabbè Oggi È iniziato a riposare da giovedì Oggi è venerdì Riposa anche oggi Pochissimi passi anche a lavoro Si magna Niente cariche e scariche strane Ma piccola reverse Poi se vi interessa Fatemelo sapere nei commenti Vi porterò il suo percorso aggiornato Tanto ho tutto nel computer Ci si avviene hotel Si va E noi porteremo in questa piccola avventura In questa piccola gara Visto che vi è piaciuta tanto quella di Malta Portiamo anche questa no? Che cazzo? Eh vediamo vediamo Dobbiamo Bisogna farlo ormai Bisogna Tutto tirato Eh sì Bene bene Domani lo colo A dopo ragazzi Ciao Fa vedere la spesa Questa è la spesa Questo per mettertelo Esatto Questo poi per pulirlo E la spugna E la spugna Eh difatti voglio vedere Asso in cassa Guardandosi cosa ci dicono Eh Stiamo a mezzo Che fico l'olio Stasera Sì Lo facciamo E via Allora siamo arrivati in camera Lui sta mangiando Dieta Qui Lasciamo stare Questo è mio Questa pure Beh Io dormo sul letto singolo Così lui sta bello comodo Poi ci inculiamo a vicenda Che abbiamo preso L'olio 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 No L'ho preso Nella borsa Questo è il bagnetto Questo sono io Grasso Piccolo bagno Niente Questo è il tour Della Sto parlando Ah bella Ci sto mangiando La galletta Adesso Che ha mangiato Vi faccio vedere Poi il suo check E ci sistemiamo Ci sciogliamo Mostra la migliore cosa è dopo Tanto adesso Si mangia Che è importante Ah che te Guardalo lì Questa è bellissima Cazzo se sei bello Puttana Sono contento Senza pelle Mamma mia Scannato Buongiorno ragazzi Allora siamo Qui in hotel Io sto facendo colazione Col porridge Burra d'arachidi Le noci Lui si è alzato Alle 4 Non so Mi sentivo già riposato Signore Hai iniziato a molestarmi Sì Perché tu mi fai Quando ti svegli Svegli anche a me Non pensavo alle 4 Ipotizzavo Le 3 Cosa del genere Vabbè Niente Adesso Siamo qui Lui si è fatto La sua colazione Molto tranquillo Verrà Ha già bevuto Circa un litro D'acqua Perché abbiamo tenuto Più o meno Tutto normale Visto che abbiamo fatto Una piccola reversa L'acqua E praticamente invariati Berrà ancora un paio Di litri Fino alla gara E mangerà Meno Cioè sto dicendo I macronutrienti Del giorno prima Però praticamente Quelli che avrebbero mangiato Fino alle 5 Leggermente ridotti Poi se appunto L'interesse Vi lascerò La sua preparazione Come ti senti? Carico Si vede Stai morendo dentro No no Sono freschissimo Adesso Vediamo come andrà Tira quadricipite Alza Tira quadricipite Alza Sì sì Ali Oh yes No ma si vede Che fino a due mesi fa Le allenavo ancora Quindi dai Almeno quello Bene Niente A tra poco Tira quadricipite La bel vaccia Sta facendo il pumping Mattutino Pre Pre Giusto per veicolare Un po' meglio Visto che ho fatto Un paio di giorni di rest Fa un po' diversi Come Ronnie Coleman Vai vai Bene Niente Noi continuiamo qui Col pumping Intanto Questo tutto striato Tutto tirato Tutto il petto di fuori Vai Without skin Bene ragazzi Adesso siamo al luogo gara Deo tra 5 minuti si farà il turno Siamo entrati un attimo a vedere C'era il frigor Sì Mi piaccio qui qualche clip Il palco è molto bello Io sono un po' ignorante In materia In argomento E niente Adesso poi ve lo faccio vedere colorato E allora Allora sono contento E vediamo adesso Proseguo Tutto nero Tirato Tutti più tirati di me qui No Vabbè E nero è tirato Il basso I'm gonna nagus E mi piaccio E mi piaccio And I'll do it Cause it's the pure I'm gonna fucking do Cause all these opinions And all these positions They're coming in millions They blocking your vision But no you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power As long as you're dreaming Bene bene, stiamo facendo un po' di pumping, tra una quundicina di minuti salirà il mister Leo, adesso stampona, tutto abbronzato, tirato, oh yes, eh, ne vediamo finché, andiamo, andiamo Bene ragazzi, adesso troppo è costa di radio, prendiamo il sesto posto, Giuseppe ha con una tribune sull'ex Fucsia, abbiamo il numero 33, Coricco, Florin, X Fucsia, fa cortesia, da dietro, dietro, Fucsia, il numero 64, Puffalo, Leonardo, ed il numero 72, Pelini, Patri Ok, allora potete venire avanti sulla prima linea, secondo quattro, lo spazio c'è, ok, segne di una sala portale, quattro vicino a testa, corriso, un po' di gira a testa, Quarto riscita a destra Quarto riscita a destra Quarto riscita a destra Vai Beppe! Doppi risciti Vai Beppe! Di fianco l'estazione Un braccio Sermo Beppe! Io petto Flori Siamo in la giuria Doppi riscita Vai Beppe! Vai Beppe! Vai Beppe! Vi come la giuria Doppi riscita In la giuria Un' laura Basta che ci c'è un po' di merda. Ottimo! Ok, se mi rilassa la frontale, si scambia ogni posto, il numero 15 con il numero 30-30. 15 e 33, si scambia ogni posto, ok? Se mi rilassa la frontale. Quarto di giro a destra. 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 Adoppio di giro a destra. Adoppio di giro a destra. Adoppio di giro a destra. Espansione. Doppio bicipite, Rapper! Doppio bicipite, fronte alla giulia, addominale a gambe. Doppio bicipite, Rapper! 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 Doppio bicipite, Rapper!